Buongiorno, benvenuti al Focus Tg, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, abbiamo tanta cronaca, abbiamo tantissime notizie da darvi oggi dalle 12 alle 13, naturalmente un periodo molto particolare da una parte si cerca di uscire dall'emergenza Covid, poi vedremo i dati che sono già arrivati, ci sono le ricadute, le ripercussioni anche le più immediate dei venti di guerra che soffiano sull'Europa ormai da settimane, abbiamo tanta cronaca, c'è da parlare come sempre anche della siccità e degli incendi perché continuano i roghi sulle Dolomiti, continua il periodo siccitoso, c'è qualche goccia prevista, fra qualche giorno siamo un po' lontani ancora per capire se potrà servire o meno a cambiare una situazione che si sta facendo davvero drammatica, quindi tantissime notizie da tutto il Veneto, ma iniziamo dalla cronaca, c'è stato questa notte un incidente purtroppo con esito mortale a Candiana, noi abbiamo già il servizio della nostra redattore Padovana. Ancora una tragedia sulle strade, ancora una vittima all'inizio del fine settimana, erano passati una manciata di minuti dopo l'una di questo primo sabato di primavera quando lungo la via del mare a Candiano una Fiat 500 Abarth condotta da un quarantenne ha iniziato a sbandare capottando più volte e finendo contro alcune siepi e recinzioni. Sul posto sono arrivati immediati soccorsi, i medici del suo M118, i vigili del fuoco, i carabinieri. Inutili i tentativi di rianimazione dell'uomo rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo, per il quarantenne non c'è stato nulla da fare, la dinamica dell'incidente adesso è al vaglio dei carabinieri che dovranno cercare di capire quanto è accaduto. Si è salvato invece per un soffio l'automobilista che stava per rimanere bloccato in una macchina che è andata a fuoco, sempre a Padova. Vediamo. È vivo per miracolo il conducente di quest'auto che nel pomeriggio di venerdì ha preso fuoco mentre percorreva la strada statale Valsugala nei pressi del casello di Padova Ovest. Del veicolo è rimasto ben poco. Nessuno è stato ferito perché il conducente, accortosi che qualcosa non andava, è riuscito ad accostare e scendere proprio mentre l'auto si incendiava sul posto i vigili del fuoco che ritengono si tratti di un guasto di natura elettromeccanica del mezzo. Restiamo a Padova perché dall'Ansa ci arriva proprio in questo momento una notizia di cronaca. Ve la leggiamo così come ci è arrivata. Poi sentiremo la nostra redazione padovana se riuscirà a farci sapere qualcosa di più. Fermato per spaccio muore poco dopo nel commissariato di polizia. Si ipotizza un malore. Un cittadino di origine tunisine è morto la scorsa notte all'interno del commissariato di polizia della stanga a Padova dove era stato condotto dagli agenti della questura che poco prima lo avevano sorpreso mentre spacciava in una zona alla periferia della città. Il decesso ci fa sapere l'Ansa appena arrivata spiega la questura in una nota è avvenuto a seguito di un malore. Probabilmente, questo è tutto da prendere con le pinze, quello che arriva in questo momento perché ovviamente sono notizie in corso di aggiornamento quindi probabilmente dovuto a una overdose sul posto, è intervenuto il 118. I tentativi di soccorso e di rianimazione dell'uomo da parte dei sanitari sono però risultati vani. Il pubblico ministero ha disposto l'effettuazione dell'autopsia sulla vittima. Quindi adesso chiederemo alla nostra redazione se è già possibile avere qualche informazione in più su questa notizia. Da Padova andiamo in provincia di Vicenza per un'operazione antidroga. Marano Vicentino, un uomo, è stato arrestato per coltivazione e spazio di marijuana. L'abitazione del 39enne, unico residente nella casa, consumava energia elettrica con valori superiori a quella di una famiglia di quattro persone. Per questa ragione gli agenti di polizia locale dei consorzi Alto Vicentino e Nord Ovest Vicentino hanno voluto vederci chiaro sull'attività dell'uomo già sospettato di spaccio di droga. Mercoledì hanno fatto irruzione nella casa ma già oltrepassando la soglia il fortissimo odore inequivocabile ha confermato loro i dubbi. Una stanza dell'immobile al piano terra era stata adibita a serra per la coltivazione della cannabis. La polizia ha rinvenuto nove piante dell'altezza di circa un metro. Il titolare dell'appartamento avrebbe consegnato loro spontaneamente un involucro contenente 39 grammi di marijuana asserendo di non averne altra. Invece, a seguito della prequisizione dell'immobile, gli agenti hanno rinvenuto altri cinque involucri contenenti nel freezer della cucina per un totale complessivo di oltre traetti di droga. Torniamo a Padova, parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di un imprenditore e al maxi sequestro dei suoi beni. Un arresto, quattro denunce e quasi un milione e 200 mila euro di beni sequestrati. La Guardia di Finanza di Rovigo, dopo una lunga indagine con perquisizioni nel Padovano e nel Rodigino, ha scoperto una maxi evasione fiscale ai danni dell'erario da parte di un cittadino cinese che con la tecnica di aprire aziende di confezioni di abbigliamento e chiuderle dopo un breve periodo di attività non versava le tasse allo Stato italiano. Inoltre, intestandole a dei prestanome, ovviamente anche loro cinesi, riusciva a non farsi scoprire, nonostante di quelle società se ne occupasse in prima persona, dall'apertura dei conti correnti bancari ai rapporti con clienti, fornitori e personale. I ricavi finivano in gran parte all'estero. I beni dell'arrestato e anche dei quattro indagati sono stati sequestrati per equivalente, cioè per un importo pari alle tasse e vase. L'obiettivo degli investigatori è quello di arrivare alla confisca per risarcire lo Stato e, almeno moralmente, gli imprenditori onesti. Sull'altopiano invece madre e figlia sono state pizzicate dopo aver commesso un furto in una gioielleria. Devono rispondere di furto aggravato madre e figlia di 64 e 46 anni residenti a Gallio, autrici di un colpo da 5.600 euro alla gioielleria Gemme e Gioie nel centralissimo corso 4 novembre di Asiago. Le due, tra l'altro clienti conosciute dai titolari del negozio, sono entrate con la scusa di sistemare un braccialetto e un orologio. In due distinti momenti sono riuscite a rubare i bracciali che erano esposti in una vetrina lasciata a semiaperta. Il gioielliere aveva notato qualcosa di strano e ha allertato i carabinieri. I militari hanno appurato il furto grazie alle telecamere di videosorveglianza. Scattata la perquisizione domiciliare a casa delle due, sono stati rinvenuti i preziosi trafugati. Sempre a Padova sono apparse delle scritte contro l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan. È stata presa di mira con una scritta vergata sopra una scritta precedente. Subito il mondo della politica si è mosso per manifestare all'assessore regionale tutta la vicinanza del caso. Noi l'abbiamo anche sentita. Sentiamo cosa è successo. La scritta sui muri vicino alla facoltà di scienze politiche lungo Via del Santo a Padova. Le minacce all'assessore regionale alla scuola Elena Donazzan a cui una mano ignota augura di fare una brutta fine. Io trovo inaccettabile che si auguri la morte a un avversario politico perché immagino che sia questa la ragione per cui vigliacchi senza nome, senza volto hanno scritto sul muro dell'Università di Padova quella frase contro di me. Non è la prima volta ma non voglio accettarlo. Non accetterò mai che qualcuno possa offendermi, possa minacciarmi. Non ho paura ma mi indigno. La solidarietà alla Donazzan è arrivata anche da Giorgia Meloni che con un post su Facebook ha condannato le minacce all'assessore di Fratelli d'Italia. L'odio di certa sinistra di cui nessuno parla perché evidentemente tollerato si è rivolto nei confronti di una donna di destra. Forza Elena ha scritto Meloni. Sostegno all'assessore regionale anche dal presidente Luca Zaia. Voglio vedere le anime belle, quelle che di solito accusano di violenza, che è sempre la la controparte. Se avranno la forza anche loro di prendere le distanze da questo atto di vigliaccheria. Io mi aspetto che il Consiglio regionale lo faccia perché non si può mai mai giustificare la violenza, sia essa a parole, sia essa come questa minacciata con i fatti. Sul fatto sta indagando la Digos di Padova che ha già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ci arriva invece dalla provincia di Padova un'informativa da parte dei vigili del fuoco. Vediamo anche qualche immagine perché a Dalbignasio in via Sant'Andrea c'è stato un incendio in un'abitazione. Si è andato a fuoco un accumulo di materiale depositato in un sottoportico. Le fiamme si sono anche estese a un'auto che è andata completamente distrutta. Nessuna persona è rimasta ferita. Ci fanno sapere i pompieri intervenuti con squadre da abano terme e piccoli danni strutturali anche alla casa. Ma ricordiamo nessun problema per i residenti. A questo punto noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus Tg. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di tutto quello che sta accadendo in Veneto. Siamo ancora nella pagina della cronaca. Abbiamo un aggiornamento sulle condizioni di salute di Luigi Brognaro, il sindaco di Venezia. Si è sentito male durante un incontro, una cena con alcuni amici nell'alta padovana a Borgo Ricco. Il suo capo di gabinetto ha pubblicato sui social un messaggio in cui dice di ringraziare i tantissimi messaggi di affetto nei confronti di Brugnaro ricevuti in queste ore da tutto il Veneto ma anche dall'Italia intera. Un ringraziamento a tutti i sanitari e soccorritori a chi si è preso cura di Brugnaro all'ospedale di Padova. Dice questo messaggio pubblicato sui social poche ore fa. Luigi Stameglio appena sveglio ha chiesto subito i suoi occhiali per leggere e tornare operativo. Come sempre ci fa sapere il capo di gabinetto con il sorriso e con il solito coraggio sta affrontando anche questa avventura, avventura tra virgolette. Ora ci fanno sapere lo costringeremo, verrà costretto Brugnaro a qualche giorno di riposo pronti poi a ripartire assieme. Naturalmente vi informeremo delle condizioni di salute del sindaco di Venezia se dovessero esserci novità. Adesso continuiamo con la cronaca, andiamo a Treviso, in provincia di Treviso perché ci sono stati quattro colpi, quattro spaccate ai danni di anziani soprattutto in poco meno di due mesi e è stato arrestato dalla squadra mobile, l'autore. Io stavo scaricando, ho sentito la signora che urlava aiuto 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 e c'era un ragazzo tutto coperto. Spaccate e scippi violenti, in poco più di un mese il terrore di anziani ed esercenti, ma da stamane le sue geste criminali sono solo repertorio. Eccolo mentre gli uomini della squadra mobile di Treviso lo caricano in auto, destinazione, il carcere di Santa Bona, proprio il quartiere nel quale in due mesi aveva scatenato il panico. 27 anni, italiano, residente a Treviso, una sfilza di precedenti. Un'indagine serrata, fatta di immagini di telecamere di sorveglianza analizzate e tante testimonianze vagliate. Il malvivente è sospettato di numerose tra rapine e furti. Per il momento gli sono attribuiti quattro episodi che avevano fatto clamore. Il primo a gennaio, un 75enne che aveva appena prelevato denaro al Bancomat era stato avvicinato, strattonato con violenza e spinto a terra, il bandito in fuga, in velocità. Poi, tra il 3 e il 4 febbraio, il cambio di modus operandi. Un sasso contro la vetrata del bar B&B di Via Ronchese per portare via il registratore di cassa. 12 febbraio, di nuovo uno scippo dopo il prelievo Bancomat, nello stesso punto dell'altra volta. Nel Merino stavolta un'anziana, anche questa, ultra settantenne. La donna sotto shock, il malvivente inseguito dal fruttivendolo, abbandona il bottino. La signora tremava tutta poverina, grazie, mi ha ringraziato. Ma è una mia cliente che ci vediamo tutti i giorni. Ancora, nota tra 25 e 26 febbraio, il sasso stavolta contro la merceria Mistro Rigo. Siamo di nuovo in Via Ronchese, il 27enne è un tipo metodico. hanno rubato il cassetto con dentro poche monetine. Più i danni, insomma. Soprattutto i danni. Per rubare 5 euro, allora hanno fatto 3.000 euro di danni sul vetro. La paura nel quartiere, una raccolta di firme dei residenti per chiedere più controlli. Ma nel frattempo le indagini corrono e il puzzle trova tutti i tasselli fino all'arresto, che fa tirare un sospiro di sollievo. Spero che questa vicenda possa dissuadere, malintenzionati per il futuro, a compiere gesti analoghi. Insomma, tenuto conto che la nostra capacità operativa consente comunque, pure in condizioni molto difficili, perché non è stato facile individuare questo personaggio, consente di attribuire insomma la responsabilità a chi commette questa tipologia di fatti. A Castelfranco invece per mesi un gruppo di giovani ha imbrattato edifici privati e anche pubblici in una frazione. Pare che siano stati scoperti. Scusateci, risarciremo i danni. L'epilogo della storia è questo, ma le scuse sono arrivate solo dopo che i carabinieri l'avevano individuati e denunciati. E quanto a risarcimento dovranno mettere mano al portafoglio con un certo impegno, perché rifondere l'amministrazione e i privati dopo aver tappezzato un'intera frazione di un comune di scritte, deturpando edifici pubblici e negozi, costerà e non poco. Il luogo, Castelfranco, la zona colpita, Salvatronda. I protagonisti, in negativo, sei amici ventenni, tutti residenti in città. Negli ultimi mesi, armati di bombolette, spray e penarelli indelebili hanno preso di mira soprattutto nelle vie centro e sile, ogni cosa potesse diventare superficie per le loro scorribande. Abitazioni, cartelli stradali, esercizi commerciali, uffici pubblici e privati, cabine elettriche. I carabinieri sono arrivati al gruppo dopo aver ricostruito un identikit dei ventenni e le loro relazioni di amicizia. Poi, sicuri di quanto avevano raccolto, li hanno convocati in caserma. Non ci hanno messo molto a capire che i loro ride erano finiti. È scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Ingenti e ancora in via di quantificazione i danni complessivi e i costi di ripristino delle superfici imbrattate. La maggior parte dei ragazzi ha riconosciuto la gravità dei gesti compiuti, chiedendo di potersi scusare con i proprietari degli immobili e mostrandosi disponibili a risarcire i danni. Il loro obiettivo era lasciare il segno. Ci sono riusciti in modo inverso. Il segno che lasceranno è quello sulla loro fedina penale e sul loro conto in banca. Notizie come questa che avete appena sentito ci arrivano ultimamente molto spesso da tutto il Veneto. Creano anche un certo allarme non solo fra le forze dell'ordine ma anche fra gli psicologi, le famiglie, le persone che vorrebbero capire le dinamiche dietro a tutto ciò. Per comprendere se sia una novità purtroppo di questo periodo dovuta magari a due anni di emergenza Covid, a tutto quello che sta succedendo. Oppure se si tratti di una semplice, riduttivo dirlo, esempio di maleducazione o simili. Ne parleremo quasi certamente nelle prossime edizioni della nostra informazione. Adesso andiamo avanti perché arriva un'altra notizia appena appena arrivata da Treviso con un anziano ridotto in fin di vita dopo una rapina. Adriano Armellin è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. L'83enne di Pieve di Soligo è stato legato con delle corde, poi massacrato a calci e pugni e colpito anche con un oggetto contundente, forse trovato in casa. Era nella sua abitazione poco dopo l'ora di cena quando l'incubo ha preso la forma di un rapinatore, un 36enne di origini marocchine che voleva fare man bassa nella casa di via Schiratti. Una violenza terribile per sapere dove fossero i soldi ma che non è servita al bandito. Un vicino di casa che stava rientrando ha sentito le urle dell'anziano e ha fatto scattare l'allarme. Il rapinatore temendo di essere scoperto è saltato dalla finestra afferendosi a una gamba, è stato quindi bloccato in garage dallo stesso vicino in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Contemporaneamente sono giunti i soccorsi per Armellin, una maschera di sangue per i tanti colpi ricevuti. Data la sua età avanzata le condizioni sono giudicate molto serie. Le prossime ore saranno decisive per capire se potrà sopravvivere a questo incubo, mentre il 36enne che l'ha massacrato è stato arrestato e portato in carcere. Una vicenda che sta scuotendo tutto il paese per la sua brutalità. Anche su questa vicenda saremo in grado poi nel corso della nostra informazione di darvi eventuali novità o aggiornamenti. Sentiremo la nostra redazione di Treviso. Sentiamo invece un servizio su una meningite fulminante che ha ucciso un 22enne a Castelfranco. Morto in due giorni, a stroncare ad appena 22 anni Marco Innocente è stata una meningite fulminante. Castelfranco sconvolta per la tragica fine del ragazzo di Salvarosa. Malattia invasiva da meningococcola, diagnosi letale. L'Ulss 2 si è attivata immediatamente per la profilassi di chi è entrato in contatto con il ragazzo. 14 persone tra familiari e amici. I primi sintomi, mercoledì. Sembrava un semplice raffreddore, poi però improvvisamente sangue dal naso, febbre che sale, stanchezza, nausea. Le condizioni di Marco sono peggiorate rapidamente diventando drammatiche tra giovedì e venerdì. Difficoltà respiratorie, dolore e debolezza agli arti inferiori e macchi al tronco e al volto. Sintomi classici della meningite. Dopo il ricovero le cure si sono rivelate purtroppo inutili. Marco è morto ieri mattina, gettando nella disperazione la famiglia e tutta la comunità. Innocente studiava scienza della formazione primaria all'Università di Padova. Prima dell'università si era diplomato al liceo classico Giorgione di Castelfranco. Una grande passione per il pallone. Aveva giocato nel settore giovanile della Virtus Castelfranco di calcio a 5, dava una mano come vice allenatore dell'Under 15 e continuava a giocare ogni tanto con gli amici. Cambiamo argomento, restiamo nella cronaca. Vediamo qual è la situazione degli incendi che stanno colpendo le Dolomiti nell'area del Bellunese. 480 microgrammi per metro cubo contro il limite di legge di 50. Questo è il picco di PM10 rilevato ieri mattina alle 11 dalle centraline Arpav di Belluno. La media giornaliera si è girata attorno ai 150 e oggi la situazione appare in fase di lenta diluizione. Il devastante rogo della montagna che sovrasta Fortogna a Longarone, quello contemporaneo in Val di Zoldo fra Sofranco e Igne hanno causato enormi e inquantificabili danni ambientali. Gli sforamenti dei livelli di polveri sottili sono compresi nel disagio patito dai cittadini invitati da Arpav a svolgere attività al chiuso e all'utilizzo di mascherine FFP2 all'esterno. Oltre alle PM10 è stata evidenziata la presenza in atmosfera di idrocarburi policiclici aromatici nell'ordine di grandezza del limite medio annuo. Questa mattina sulle aree avvolte dal fuoco è proseguito il lavoro di elicotteri e Canadair per contrastare piccoli focolai soprattutto nella zona del rio dei Frari e la situazione è decisamente migliorata. Un impegno per la flotta aerea e per il servizio forestale regionale che da oltre un mese e mezzo è in stato di allerta. Ogni giorno si apre e si chiude un incendio. Poi questo qua è un incendio di dimensioni abbastanza grosse insomma quindi è un incendio importante, è un incendio che ha delle conseguenze così come quello di Imie che è un incendio che per le sue caratteristiche è molto pericoloso per la strada, per una serie di conseguenze. Nel pomeriggio di nuovo fiamme e fumo sulle creste della montagna in Val di Zoldo dove l'incendio da quattro giorni crea prensione e contribuisce a rendere ancora più fragili i versanti rocciosi che lambiscono la regionale 251 chiusa al traffico per motivi di sicurezza. C'è un'esperienza fatta dentro alla muda dove allora quando moltissimi anni fa si è incendiato il Monte Cielo, dopo hanno iniziato le colate detritiche proprio alla muda perché poi naturalmente il territorio viene devastato quindi non essendoci più il bosco, prendendo le pietre che si riscaldano, si spaccano, tutta una serie di attività che vengono dopo e si innestano di fenomeni che prima non esistevano. Ci arriva un aggiornamento dal bellunese presidente della provincia, sindaco di Longarone, Roberto Padrin, ci fa sapere che nella notte è ripartito un focolaio sopra il cimitero delle vittime del Vaionta di Fortogna, gli elicotteri stanno lavorando dall'alba di questa mattina per avere ragione anche di questo nuovo focolaio a Sofranco, l'incendio si è diretto invece verso Mezzocanale e questo contribuisce ovviamente a tener chiusa la 251, la strada della Valla di Zoldo, l'aria ci fanno sapere è tornata irrespirabile a causa degli incendi, quindi il sindaco di Longarone invita le persone a rimanere in casa il più possibile e di utilizzare le mascherine all'aperto, anche qui vedremo se arriveranno novità, se ci arriverà qualche immagine fresca di queste ore dalla nostra redazione bellunese, ve le faremo immediatamente vedere. Ora con la regia di Fabio Verini noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, dobbiamo parlare ancora di tutta la situazione della siccità che sta colpendo il Veneto. Buongiorno, bentornati al Focus Tg, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, siamo ancora nella pagina della cronaca e purtroppo il tema di cui stiamo per parlare rientra nella cronaca, ovvero una siccità che sta diventando un po' disastrosa per tutta la regione, non piove da tre mesi e stiamo dando un'occhiata proprio adesso al volo, alle previsioni che l'Arpav ha stilato per i prossimi giorni e vediamo che almeno fino a domenica non se ne parla ancora, qualcuno prevede per la settimana prossima qualche goccia, forse qualche pioggia importante a partire da metà settimana, ma vediamo che fino a domenica non ci saranno variazioni di temperature molto alte decisamente sopra la media, questo però lo vedono le migliaia di persone che proprio oggi si sono mosse, si stanno muovendo dal Veneto per andare a vedere magari le località turistiche, qualche città d'arte e tanti stanno già andando al mare e questo a tre giorni, quattro giorni dall'inizio della primavera, secondo il calendario, potrebbe sembrare anche un po' fuori stagione. Noi ci siamo occupati della siccità, siamo andati a vedere il Brenta in due punti molto lontani fra loro, cominciamo dal basso, dal Padovano, vediamo come sta andando. Un fiume Brenta come nemmeno i Vigo d'Arzeresi hanno mai visto, neanche il primo cittadino che di anni ne ha 69. Quando noi sentiamo un Brenta tutti lo dicevano, è ruggente perché in molte volte è riuscito anche a ribordare con gli argini, vederlo così credo che bisogna farci un pensiero, un pensiero veramente serio perché credo che sia un danno non solo per l'economia ma sia un danno anche per tutto quanto, per chi possa passare, per chi possa anche vedere l'argine. Noi ci ricordiamo l'ultima pioggia, diciamo abbastanza importante, a novembre, siamo a marzo e deve ancora piovere ed è stato previsto sulle previsioni che mercoledì ci sarà una leggera pioggia ma non basterà per riempire il fiume Brenta. Il bassissimo livello delle acque del Brenta ha denudato i pilastri del Ponte della Libertà che unisce Limena con Vigo d'Arzeresi fino ai Plinti. Credo sia un'occasione anche per la provincia perché è competenza provinciale di fare un sopraluogo e vedere veramente come è lo stato di questo ponte perché a sentirlo dire a parole o con i giornali e altre cose sembrava un ponte che stesse per cadere. Che poi ci sia bisogno di un altro ponte ne discutiamo per carità, non ho mai detto di no. Nella bassa padovana la carenza di pioggia ha mandato in sofferenza frumento e orzo. Le semine sono posticipate il più possibile in attesa di qualche precipitazione. Questo terreno sarebbe pronto per la semina del mais. Ovviamente se non dovesse piovere qui dove non c'è acqua non verrà assolutamente seminato quindi il terreno rimarrà incolto. Quindi è fondamentale con il clima che sta cambiando avere un po' in tutti i territori italiani e ovviamente anche qui nella fertile pianura padana dell'acqua a disposizione perché il futuro dell'agricoltura è l'acqua ma in questo caso non riusciremo a seminare se non pioverà. Sono tre mesi che non piove. La siccità nella pianura padana, spiega la Coldiretti di Padova, sta minacciando oltre il 30% della produzione agricola. Anche l'irrigazione sarà problematica. Vediamo questo grafico sempre dell'ARPAV con la regia di Fabio Verin. Questa è un comune Veneto preso a caso, 21 gradi, siamo nel Veneto centrale, 21 gradi ieri, 22,7 l'altro ieri, massime, altissime precipitazioni. Vedete questa colonna inesistenti, minime, ormai molto alte, ormai si va quasi sempre sopra i 10 gradi. Quindi una situazione davvero complessa. Noi siamo andati a vedere anche la parte un po' a monte del fiume Brenta e abbiamo chiesto a qualcuno che il Brenta lo conosce bene, ci vive e ci vive anche da anni, di scenderlo, di discenderlo per qualche chilometro, di vedere alcuni punti un po' particolari e ecco com'è andata. Non piove da tre mesi sulle montagne, non c'è un filo di neve e il Brenta, anzi la Brenta va in difficoltà. Per capire cosa stia accadendo alla Brenta abbiamo chiesto una mano a Ivan Pontarollo, imprenditore e canoista di fama internazionale e lui si è lanciato in una discesa del fiume sul suo kayak. Io l'ho navigato col kayak perché il kayak è più pesca meno, è più piccolino, riesce a passare ovunque. È difficile, è una navigazione diversa, non si può fare assolutamente, c'è una portata estrema, minima estrema. Questo di Valstagna è l'unico tratto davvero navigabile ma se la situazione non migliorerà dal punto di vista della siccità, della piovosità le cose potrebbero farsi davvero complicate. A rischio anche le attività sportive sul fiume se il meteo non darà una decisa virata al trend delle ultime settimane. Se non piove non è fruibile perché adesso noi partiamo domani con un corso di aggiornamento di guide rafting che vengono a tutta Italia e appunto oggi sto facendo sopra luogo per verificare la navigabilità. Potremmo navigare in alcuni tratti, sto parlando del tratto da San Gaetano a Campolongo-Solagna. Anche il settore turistico è in apprensione per le ricadute di questa situazione. Decine di migliaia di turisti, gite scolastiche incluse, visitano ogni anno la Val Brenta per scoprire le sue meraviglie. Siamo molto in apprensione per questa situazione perché adesso tra l'altro le scuole hanno liberato, hanno possibilità di fare qualche gita, abbiamo qualche piccola pronotazione. sarebbe una ripartenza dopo il Covid che è molto molto tirata. Il fiume ha sempre rappresentato la vita per i paesi in questa valle ma anche per il territorio giù nella pianura. Vederlo così fa davvero male. L'unica speranza è che la primavera possa portare un cambiamento. Stiamo salendo e continuiamo a salire. Andiamo in alto piano, l'altopiano di Sette Comuni dove il soccorso alpino del Veneto ha fatto il punto sulla situazione di questo ultimo anno con tantissimi interventi e tanti interventi, ne diamo notizia praticamente ogni giorno, dovuti a escursionisti inesperti che si mettono nei guai perché vanno magari dove non si potrebbe andare senza una certa esperienza o perché ci sono persone che vanno a camminare in montagna, in montagna un po' più in alto di quello che si può pensare di solito con le scarpe a genastica, le ciabatte. Si è visto davvero di tutto. Ecco il servizio. L'attività operativa svolta nel 2021 dal personale del soccorso alpino e speleologico Veneto ha fatto registrare 1048 interventi con un aumento di quasi il 6% dei soccorsi sanitari dovuto a una tendenza già segnalata l'anno scorso e legata in larga parte alla pandemia che ha portato un aumento del turismo di prossimità. E sì, perché se da una parte si sono registrati tantissimi frequentatori nelle nostre montagne che hanno preferito la sicurezza dei luoghi vicini e all'aria aperta, dall'altra ci si è dovuti confrontare con una maggiore superficialità nell'affrontare le escursioni. Sono così lievitate le emergenze legate a comportamenti non idonei, incapacità, perdita dell'orientamento, abbigliamento inadeguato, sopravvalutazione delle proprie condizioni fisiche. Ma torniamo ai numeri. 1156 sono le persone soccorse nel corso dei 1048 interventi che confermano un trend in aumento rispetto agli ultimi anni. Gli interventi fatti sono prevalentemente di natura sanitaria, ma si sono registrati anche 72 interventi di ricerca di persone scomparse. L'elicottero è oramai parte integrante e fondamentale del moderno soccorso alpino ed è stato impiegato in media nel 40% degli interventi. Ci arriva adesso un aggiornamento dalla nostra redazione di San Biagio di Callalti, provincia di Treviso. L'anziano picchiato nel corso di una rapina questa notte è morto, è mancato poco fa. Notizia in corso di aggiornamento anche questa, quindi ce l'hanno passata ora i nostri colleghi, poi cerchiamo di capirne di più. Chiudiamo la pagina della cronaca e apriamo un'altra pagina non meno dolorosa. La guerra non si ferma in Ucraina e il grido di pace arriva anche dal cardinale di Venezia. Invochiamo che si fermino al più presto i massacri in corso nella terra ucraina. Questo è il messaggio di pace lanciato dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, alla messa per l'annunciazione nella Basilica di San Marco, Dies Natalis, della città lagunare. Da Venezia è città dell'incontro, dell'ascolto, dei cammini condivisi, città dei legami tra l'oriente occidente, il grido d'allarme e una preghiera di pace in sintonia con i numerosi e accorati appelli di Papa Francesco. Si è giunta la guerra in Ucraina che ha martirizzato un popolo, che ha colpito l'Europa, una guerra preannunciata in questi anni, sottovalutata ma nello stesso tempo inspiegabile, inattesa nella sua carica di tragedia per milioni di uomini, donne e bambini. Pace e verità sono connessi, ha detto ancora Monsignor Moraglia, Dio converte i cuori e purifichi le volontà in vista della pace. Anche la nostra città, fedele ai richiami delle sue origini, si rinnovi e cresca sempre più in umanità, in fede, in concordia e in pace. Ha aggiunto infine Monsignor Moraglia, sempre nel corso della celebrazione. Torniamo a chiedere protezione, rifugio a Maria, nostra madre. E a Padova i giovani hanno manifestato per l'ambiente ma anche per chiedere ancora una volta che si fermi la guerra, la violenza. Stanno per partire i ragazzi del Friday for Future, è l'ottavo sciopero per il clima, un corteo si snoderà a lungo le vie cittadine. Penso sia molto importante mostrare alle persone che anche se siamo giovani possiamo fare il nostro piccolo. La cosa che bisogna fare su grande scala è smettere di bruciare idrocarburi. Cioè la crisi climatica c'è e non è uno scherzo. È ormai da 30 anni che i governi attuano decisioni pur di non attuare veramente una transizione ecologica. Quello che chiediamo è chiedere alla politica la responsabilità di attuare veramente una transizione ecologica. Siamo in piazza oggi per protestare in modo da ottenere qualche risultato per questa emergenza climatica. Oltre agli studenti anche i lavoratori di Amazon in piazza oggi. Anche i lavoratori di Amazon esattamente, Amazon XL per la precisione, con sede in corso Stati Uniti a Padova e lottiamo per i nostri diritti, per i lavoratori, noi che siamo corrieri appunto siamo costretti a portare insomma carichi eccessivi senza l'ausilio di carrelli elettrici. Vi vedete i ragazzi stanno manifestando dietro un grande striscione, tra loro anche Sebastiano Michelotti, uno degli esponenti di punta di questo movimento ambientalista, ecologista Friday for Future. Con questa crisi energetica le azioni sarebbero quelle di andare con gli investimenti dalla parte giusta, iniziare a investire nelle rinnovabili, iniziare a decarbonizzare la nostra economia, quindi per ogni paese, per ogni continente poi sono azioni diverse, ma in sostanza devono riuscire a eliminare più rapidamente possibile il livello di emissioni di CO2 che il nostro sistema, la nostra società emette per produrre e consumare. Facciamo una breve pausa, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus Tg, siamo in diretta anche oggi in Onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Torniamo in provincia di Padova, parliamo ancora della guerra, delle ricadute per il Veneto e di quello che sta accadendo in Ucraina. Le terme e Ugane, gli albergatori offrono lavoro. Abbiamo anche la possibilità all'interno delle nostre strutture di offrire posti di lavoro che probabilmente a loro potrebbero anche interessare, perché senza star lì magari qualche mese con le mani in mano, ma probabilmente anche per potersi inserire e avere anche un ristoro economico dalla loro presenza qui in Italia. Gli albergatori del comparto termale tendono una mano ai profughi ucraini. L'ozio imbruttisce l'aiuto alle persone, passa anche da renderle importanti ed attive. Molte le posizioni libere nelle strutture ricettive Ugane. Dalla reception, alla cucina, alle camere, al reparto termale, se hanno delle specifiche preparazioni come estetisti o massaggiatrici o massaggiatori eccetera. Anche, non so se ci fossero delle persone, dei ragazzi o delle ragazze che vogliono a prendere il brevetto di assistente e bagnante, abbiamo la possibilità di inserirli e quindi di avere anche un riconoscimento nei loro confronti di uno stipendio che gli possa affrancare da questa situazione di bisogno. La guerra ha portato anche un drastico ridimensionamento del turismo russo. I numeri parlano di un 10% di assenze, una perdita di 40 milioni l'anno. Ma non solo questo, i costi dell'energia vanno ad incidere pesantemente sui fatturati. Noi, per nostra fortuna, utilizzando la geotermia, quindi il calore delle acque termali che preleviamo per maturare i fanghi, non abbiamo la spesa del gas per riscaldare le strutture, le nostre piscine e i nostri servizi dove c'è necessità di calore. Quindi, da una parte sicuramente non siamo stati toccati, mi riferisco al gas. Dall'altra parte, per quanto riguarda l'energia elettrica, che è una componente fondamentale per far muovere tutti i servizi delle nostre strutture, effettivamente il peso è aumentato di circa il 150%. Sull'argomento rifugiati ci arrivano un po' di dati dalla regione del Veneto, che ci dice che in questo momento negli hub regionali ci sono 348 profughi ucraini ospitati. Sono 85 a Isola della Scala, 56 a Valdobbiadene, 65 a Noale, 73 ad Asiago e 69 a Monselice. Sono stati effettuati 16.580 tamponi con un tasso di positività al 2,8% e sono stati offerti dai Veneti 11.378 posti letto da 5.012 offerenti. Il conto corrente per l'Ucraina ha raccolto già 658.148 euro. Con quello che sta succedendo alle porte dell'Europa e con le scelte del governo di abbassare un po' il prezzo della benzina, del carburante, la situazione non è comunque affatto chiara. Siamo andati a cercare di capire che cosa succede con il caro carburante nel Vicentino. Abbiamo anche l'ultima goccia, guarda. Eh sì, la spremiamo bene, sì, grazie. Tecniche di sopravvivenza quotidiane. La benzina come oro liquido. Gli alti costi del carburante, nonostante i ribassi programmati dal governo, impongono agli automobilisti di sfruttare questo periodo di prezzi calmierati che durerà fino al 21 aprile. Dopodiché, se non interverrà un nuovo decreto per rimettere mano alle aliquote, ci si attendono a nuova impennata delle spese carburante. I benzinai, tra l'incudine e il martello, tengono a precisare che non sono loro a guadagnarci. Ma purtroppo non è responsabilità nostra per questi aumenti. Noi abbiamo il solito margine e rimane sempre quello. Noi sugli aumenti non centriamo proprio niente. fanno tutte le compagnie petrolifere, lo Stato e basta. Noi prendiamo un tot al litro che fa ridere e siamo sotto costo. Cosa succederà alla fine del mese? Succederà che aumenta ancora. Il giorno dopo hanno fatto subito l'aumento di nuovo alle compagnie petrolifere. Ci sono alcune pompe che non hanno aderito subito all'abbassamento delle accise perché hanno detto che non hanno pagato di più. Però quando c'è stato il rialzo, non è che l'hanno venduto come prima. Subito hanno rialzato e questo non va bene. Infatti io ho fatto benzina ieri perché è calato, però adesso devo limitare. Si aspetta un aumento? Sì. È dura per le famiglie perché si vede il costo che influisce su un costo medio di una famiglia normale. Queste cifre? Sì, si vede perché se fare un pieno adesso bisogna venire a fare il pieno ogni settimana quasi perché prima invece in 15 giorni ti bastava. Meglio di niente, si respira un attimino. Ma poi? Poi dopo non si sa. Speriamo bene che il governo faccia qualcosa. Mi auguro che oltre alle accise che hanno calato di 25 centesimi, ma non è tanto, però devono rimediare e fare qualcosa assolutamente perché la gente non è più, è quasi un disastro. Quello delle accise dovrebbe essere un provvedimento che dura sempre. Onestamente abbiamo la benzina da noi e fra le più care d'Europa anche quando non c'era questa crisi, quando non c'era la guerra e tutto. Quindi le accise vanno riviste sicuramente. La bagarre coinvolge anche i grossisti di carburanti che minacciano addirittura una serrata. Siamo tutti molto preoccupati, sono già iniziate le speculazioni. A parlare è Maurizio Piovesan, presidente provinciale del gruppo Grossisti Prodotti Petroliferi di Confcommercio, che ieri a fronte della situazione dei mercati ha convocato in presenza l'Assemblea Provinciale dei Commercianti di Prodotti Petroliferi. Si teme la corsa all'ultimo barile per il diesel a causa del decreto dei 30 giorni. In una notte i nostri magazzini hanno perso in media il 20% del valore, dice Piovesan. E poi la categoria invoca un intervento strutturale sulle accise e non emergenziale come quello che stiamo vedendo. Occorre prevedere indennizi per la svalutazione improvvisa dei magazzini di prodotti petroliferi in calza Piovesan. Un intervento serio che supporti il gasolio da riscaldamento e tutta la fascia fragile, anziani e privati. Il taglio delle accise temporaneo insomma non sta aiutando la categoria che per la prima volta minaccia la serrata. Se in fase di conversione del decreto venga loro negata la possibilità di recuperare con un conguaglio le somme perse. Perché la merce pagata da grossisti ad un certo prezzo ora vale molto meno senza che sia stato previsto alcun indennizzo. È un sollievo temporaneo per gli automobilisti, ma finiti i 30 giorni che cosa resta? Il decreto sul caro carburante, spiega Piovesan, se da un lato aiuta, peraltro per pochi giorni gli automobilisti, dall'altro penalizza la residenzialità e i privati, soprattutto quella fascia media, in larga parte anziana, che in casa ha il sistema di riscaldamento a gasolio. Su questa situazione c'è la massima attenzione anche da parte delle forze dell'ordine. Nel Vicentino, anzi a Vicenza, capoluogo, la polizia locale è andata a controllare che cosa sta accadendo con i prezzi e con la riduzione appunto del costo del carburante. È stato anche sanzionato un commerciante, una stazione di servizio. I nuovi centri di gravità dell'economia di famiglia, le aree di servizio, le pompe dei carburanti. Fermi non si può stare e per lavorare bisogna muoversi. Parte dello stipendio finisce inevitabilmente in benzina, gasolio, metano o GPL. Oggi più che mai, per gli automobilisti, diventa fondamentale avere l'occhio attento a dove il carburante costa meno. Per questo anche l'attenzione delle forze dell'ordine si sposta nelle aree di servizio per una serie di controlli sull'erogazione di carburante. In particolare sulla comunicazione obbligatoria dei prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico e sulle pubblicità dei prezzi al carburante. Abbiamo proceduto da giovedì fino ad oggi ad effettuare circa una ventina di controlli sulle stazioni di servizio al fine di controllare effettivamente la pubblicità dei prezzi che sono stati praticati mediante l'esposizione ai totem che sono visibili dalla strada. Una sanzione è stata contestata per mancata esposizione del prezzo mentre altre tipologie di violazioni sono di competenza anche di altre forze di polizia dello Stato. A Vicenza la polizia locale in un solo caso fino ad oggi ha contestato la mancata esposizione del prezzo sul totem luminoso sulla strada. Di conseguenza è scattata la sanzione. La mancata esposizione del prezzo del carburante comporta la sanzione di 1031 euro. I controlli utili per garantire la leale concorrenza tra le stazioni di servizio continueranno anche nei prossimi giorni perché i cittadini possano avere conoscenza dell'effettivo prezzo che viene praticato alla pompa. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni fino a quando avremo praticamente effettuato un servizio generalizzato sul territorio. Con questa situazione con i carburanti che salgono e scendono con le bollette alle stelle ma questo lo vediamo ormai da qualche mese c'è qualcuno che decide di fare una scelta drastica, una scelta di vita qualcuno ha deciso di andare a vivere in camper. Ecco il servizio. Perché anche questi sono i bisogni locali, perché si è messo a corrente. Ultimi controlli al camper per Mario e Gabriella, la coppia che ha deciso di andare a vivere stabilmente in camper. 63 anni lui, 61 lei, pensionati. Dopo molti anni di esperienza prima in barcavela e poi di vacanze vagabonde hanno preso la decisione di vendere la loro abitazione di Montebelluna per questo camper. Vivere in camper costa molto meno, ma non solo costa molto meno, ti dà molto di più. Perché ad esempio in casa noi abbiamo capito una bella casa, abbiamo fatto un bel mutuo lungo 30 anni, abbiamo pagato però alla fine non ci ha dato quello che cercavamo. Noi cercavamo di essere liberi, abbiamo lavorato tanti anni e alla fine era diventato un peso. Una scelta per certi versi radicale, fatta di questo mezzo, di due biciclette elettriche, ma soprattutto del cane Teo che sente questo camper, come si vede, veramente a casa sua. E' felice! Come si fa a vivere in camper, lavatrici, far da mangiare? Si impara a far da mangiare con passi semplici, cibo molto semplice perché lo spaccio è quello che è in frigorifero, tantissima verdura la si trova ovunque, per lavare e allora le lenzuola e i giubbotti li laviamo a lava secco, mentre il resto si fa a mano, in fine conti non ci sono bambini. Certo, un punto d'appoggio rimane la casa del fratello di Mario, ma serve per le manutenzioni del camper. Per il resto, per questa coppia, è di fatto una scelta verso la felicità. E metti l'antifurto, e metti il lucchetto a sua porta, e metti qua, ma questo qua, a 63 metri, ma questo è proprio quello che vogliamo? Cioè, vogliamo finire i nostri giorni in queste condizioni? No, vogliamo essere liberi, vendiamo tutto, ci copriamo un bel camper, partiamo. Ma non ha la nostalgia di una casa? No, perché questa è casa mia, cioè non so se mi so spiegare le cose, è una questione mentale, questa è casa, perciò ho la nostalgia di questa casa quando sono costretta magari per fare i controlli eccetera a dove riuscire, perché questa è casa mia, ovunque. Dal camper alla Movida, polemiche a Padova per le scelte dell'amministrazione comunale. I residenti di Piazza dei Signori sono passati alle vie di fatto. Attraverso un avvocato hanno mandato una diffida al comune, perché faccia accessare al più presto gli schiamazzi notturni collegati alla cosiddetta Movida, che impediscono un giusto riposo a chi vive nelle piazze. Se non avranno risposte entro 30 giorni, dicono, sarà avviata una causa con richiesta di risarcimento danni. Capisco perfettamente, mi metto in loro panni. Probabilmente anche io farei qualcosa, però faccio il segno del comune. Siamo una città università, cosa posso fare? La questione sono circa 3.000 ragazzi, e il numero è in aumento, che rimangono nelle piazze dopo la chiusura dei locali, parlano tra di loro, anche con un tono di voce normale, ed è ovvio che facciano rumore, sostiene l'amministrazione, senza dimenticare il diritto al lavoro dei baristi e ristoratori. Ci sono dei diritti costituzionalmente garantiti. Fra questi ci dimentichiamo sempre che c'è anche il lavoro. Il lavoro è un diritto costituzionalmente garantito, per cui noi andremo a limitare l'attività di attività commerciali che stanno riprendendo un'attività, stanno facendo vivere una città. La strada legale però è stata imboccata. Per evitare di portare il comune in tribunale, i residenti chiedono subito nuovi provvedimenti. Partendo da questo presupposto, che ci sono due interessi diametralmente opposti, ma sono costituzionalmente garantiti entrambi gli interessi, noi abbiamo messo in essere tutti i rimedi e continueremo a farlo, e proveremo a trovare altre soluzioni per cercare di migliorare questa situazione. Fermo restando che sul piatto della bilancia ci stanno i residenti e ci sta tutta una città che sta ricominciando a vivere. Le prossime mosse dell'amministrazione partiranno dopo Pasqua con il potenziamento dei controlli nelle aree dove c'è maggior concentrazione di ragazzi. 60 nuovi street tutor verranno assunti a partire dal 20 di aprile. Chiudiamo il nostro telegiornale con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della regione del Veneto per quanto concerne l'emergenza Covid. Sono ancora in crescita contenuta, ma crescita i dati. Vediamo che sono 7163 le nuove positività riscontrate nelle ultime ore che portano al totale delle persone attualmente positive. In Veneto a 75807. Sono un paio di migliaia di unità in più rispetto a ieri e questo comunque conferma un trend degli ultimi giorni. Infatti sono 1.458.593 le persone che risultate positive in Veneto dall'inizio dell'emergenza. Sono purtroppo 14.100 le persone che hanno perso la vita in Veneto a causa del Covid. Scendiamo nella seconda parte della tabella che ci fa vedere la situazione degli ospedali del Veneto. Vedete tutti gli ospedali della nostra regione. Ma questo è importante, questo è il consuntivo. Sono 748 le persone ricoverate in area non critica di cui 471 positive, 277 quelle guarite. I numeri si sono invertiti, vuol dire che c'è una recrudescenza seppur contenuta soprattutto per quanto riguarda i ricoveri. Ci dicevano i medici solo pochi giorni fa che effettivamente l'aumento dei numeri nei contagi non va di pari passo con un aumento di numeri importante negli ospedali. Infatti sono 56 le persone ricoverate in terapia intensiva di cui 23 che sono ancora positive e 33 che si sono negativizzate. Vediamo le differenze. Con il giorno prima c'è un bilancio positivo di 7 unità quindi si muove molto poco fortunatamente. È un bilancio negativo di 2 unità in terapia intensiva. Sono ancora da segnalare alcuni decessi. Ci sono stati 5 morti a causa del Covid nelle ultime ore. Vedremo come andrà nei prossimi giorni. Noi siamo tutti i giorni qui dalle 12 per raccontarvi quello che succede in Veneto alla Focus TG. Noi ringraziamo Fabio Verin per la regia ringraziamo tutti i nostri colleghi per averci consentito di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento al TG Bassano, TG Vicenza per tutto il resto e vi auguriamo un buon pomeriggio.